Ci troviamo in Piazza del Popolo, Angolo via Rossini, uno dei luoghi dove da ieri sono stati installati quattro totem digitali, quattro dispositivi informativi, innovativi che portano a un valore aggiunto sull'informazione cittadina, dagli eventi alle possibilità della città in vista anche di capitale della cultura. Totem che sono stati installati in Piazza del Popolo, in Piazzale Matteotti, alla Palla di Pomodoro e in Piazzale Lazzarini ne arriverà anche un quinto in corso 11 settembre. Una novità fortemente voluta dall'assessorato alla cultura e dall'assessorato all'innovazione. Sono molto contenta e soddisfatta, abbiamo iniziato un anno fa con questo progetto e oggi si è realizzato. Poi durante il cammino anche insieme all'assessore Vimi abbiamo appunto perfezionato per fare in modo che funzionasse bene. A realizzare i totem, l'azienda I-Connect Solution, azienda di Parma che si è aggiudicata il bando comunale di Pesaro dedicato a questa novità, Ermanno Brambilla, responsabile della società emiliana, ci illustra il funzionamento di questi dispositivi. Il totem che stiamo visualizzando è quello di Piazzale del Popolo ed è una delle due versioni che abbiamo fornito al comune in touchscreen. Il funzionamento è molto semplice, c'è una banda orizzontale con le lingue, cliccando la lingua di riferimento l'utente che si posiziona davanti alla macchina può scegliere quale icona consultare. In questo caso abbiamo Pesaro e dintorni, cliccando sopra si aprono le varie aree di esplorazione e se per esempio andiamo nell'area musei troviamo alcune foto identificative dei luoghi da visitare, per esempio musei civici, ci andiamo su, abbiamo una didascalia, una descrizione del tipo di punto di interesse che stiamo visualizzando, una galleria fotografica che cliccando esplode a tutto schermo e poi può essere o selezionata scorrendola in questo modo oppure tirandola, però è la stessa cosa. Quando si ritorna indietro c'è la possibilità di utilizzare la mappa, quindi uno va sulla mappa, si vede molto bene il punto in cui è installato il totem e il punto di arrivo e per facilitare il raggiungimento del punto di interesse, cliccando questo pulsante si apre un QR code che fotografato apre immediatamente le mappe di Google per appunto accedere al punto di interesse. Se torniamo indietro, è per esempio una cosa interessante che è stata fatta, è stata soprattutto sul discorso manifestazioni ed eventi, linkare direttamente la pagina del comune con il calendario degli eventi e scorrendo c'è la possibilità di vedere tutti i tipi di manifestazioni, eventi o news che vengono comunicate direttamente dall'amministrazione comunale. L'altra cosa interessante è che è stato pianificato l'utilizzo di un tasto disabili, cliccando il quale tutta la parte contenutistica viene abbassata da uno spazio di 70 fino a uno spazio di 120 cm, in maniera tale che anche i disabili abbiano la possibilità di avere una facile consultazione.